mercoledì 18 dicembre san graziano di tour è il 352 esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 13 al termine il sole sorge alle 7 45 e tramonta le 16 29 la luna si leva alle 23 41 e tramonta le 12 22 eccezionale alta marea a venezia si segnalano rotture ai lidi e sembra che i danni complessivamente ammontino a un milione di zecchini d'oro ancora aperte le prevenite per il tradizionale gran concerto di capodanno che si terrà alle ore 22 del 31 dicembre al teatro accademia di conegliano evento premiato dalle numerose presenze da tutta italia e che per i 150 anni del teatro ospiterà quest'anno il buffet finale sotto la loggia del municipio info www.granconcerto.it le previsioni per domani cielo molto nuvoloso o coperto ci saranno varie precipitazioni da modeste a consistenti andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane quota neve in prevalenza 1700 1900 metri temperature con andamento irregolare nelle ore notturne e in calo nelle ore diurne 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 Grazie a tutti.